qua e eccolo qua e della lars si eccolo vieni nove piani ma sono tantissimi dai hai visto ma come siamo fortunelli oggi che dici vai piace deve salire anche il piano vale 3 vai anche per il soffitto a dire vero avevamo già visto in un altro scendere se dove ti ricordi al tv sport si arrivederci sei contento? si bello questo è bello? si che bello questo ascensore per fortuna 9 piani adesso sono tantissimi poi facciamo un altro giro no no si dopo ne facciamo un altro no dopo ne facciamo un altro dai facciamo due giri no si si dai facciamone due no è bellissimo dai si dai è bellissimo sto ascensore dobbiamo fanno due a funzionano facciamo due giri ma siamo arrivati a non si facciamo un altro giro dopo sperando che nessuno lo chiama già ci ha fatto il piacere di entrare chiamato al settimo deve salire accendere 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 a che piano va due grazie che buon perfume fai da magnarchi e anche perché si mangia no? bisogna dalla banda purtroppo dalla banda per fortuna eccoci qua anche a te dopo facciamo un altro giro dai facciamone un altro è bellissimo sto ascensore dai è bellissimo ma hai preso tutte le... si quando è stato fatto? non lo so dove quali è? non hai visto qua? aspetta che appena scendiamo lo prendo e poi facciamo un altro giro da revisione c'ha scritto tutto? si vai facciamo un altro giro è bellissimo si a te piace è già chiamato ancora? dovete salire? no 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 aspettiamo un attimo va bene si si ma dopo stop sperando che nessuno lo chiama adesso devo anche spostarmi? devo prenderlo lo schermo e dopo cosa facciamo questi video? cosa fai? lo metti sul gruppo delle matrici? si anche perché c'hai il gruppo delle ascensore? si veramente? really? salve devi scendere a che piano va? vero? no no ecco prego Ricky lo metti sul gruppo delle matrici? hai anche il gruppo delle ascensore? si bello il motore bello? si è tutto in ordine che dici? non rischiano questi condomini di precipitare nel vuoto? si o no? si ok noi abbiamo finito si siamo a zero? si il signore esce e poi si abbiamo finito arrivederci dovete scendere voi? sentite o salite? scendiamo venite? no 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 va bene comunque qui si ferma lo stesso si che cosa assurda che mi infezza freddina ammazza quanta gente eh ma guarda che nel condominio e noventi anni è stata fatta venti che ti ha detto beh ma adesso lasciamo libero aspetta che si chiude aspetta aspetta deve chiudersi devi vedere se sale si è chiuso aspetta guarda la porta è questa eh Lila guarda che lo sta chiamando un signore vieni è salito è salito è salito è salito ok 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 ok